È un intervento importante, riguarderà l'ammodernamento, riguarderà la messa in sicurezza del muro paraonde, il rifacimento della testata, è un ulteriore puntile per l'attracco del metro del mare e la messa in sicurezza dell'intero abbacino portuale. Poi noi prevediamo ulteriormente, insomma, viste anche le esigenze del settore della pesca e del settore della nautica in generale, visto che il Comune di Castellabate avrà la titolarità di questo intervento, cercheremo di recepire un poco anche le esigenze, che sono esigenze proprio operative di chi nel porto ci lavora, per cercare di spendere bene questi soldi e di avere il massimo risultato. Ecco, un intervento che renderà il porto anche più fruibile dal punto di vista turistico. L'assessore nel suo intervento sottolineava la necessità però di rivedere anche il discorso inerente alle concessioni marittime. Sicuramente questo è un obiettivo che ci siamo dati, con l'assessore abbiamo discusso anche di questo, perché oltre all'intervento strutturale c'è bisogno anche di un intervento di regolamentazione e di erogazione di servizi. Ecco, il vero tema è questo, mettere ordine, mettere disciplina su delle cose che sono state sempre procrastinate, rimandate nel tempo. Adesso questo intervento ci consentirà finalmente di avere una visione diversa del porto per quanto riguarda i distributori. Da quest'anno attiveremo il distributore del carburante, stiamo i servizi sullo scalo tecnico, stiamo avviando i servizi sullo scalo tecnico, abbiamo definito le due fasi di aggiudicazione di tutti e due i servizi. Quindi diciamo che è chiaro, il porto deve rappresentare un insieme di fattori, un insieme di servizi da erogare. È evidente che erogare i servizi in ogni attività ci vogliono i regolamenti, i regolamenti per regolamentare queste cose e soprattutto regolamentare le concessioni, cose che la regione Campania sta già facendo ed è giusto che anche il porto di Castellabate venga regolamentato e venga disciplinato. Io però tengo a dire la precisazione che non ci sono contrapposizioni, la regolamentazione deve essere concertata, per regolamentazione è concertazione, perché ognuno deve fare il suo ruolo, il pubblico, il privato e io credo che mettendo insieme le risorse, mettendo insieme le energie si possa arrivare a una regolamentazione che tuteli tutte quante le parti in campo e in questa attività, in questa fattispecie, perché ritengo che con i privati, i privati hanno fatto un ottimo lavoro, hanno danno un servizio, però si può fare ancora meglio, regolamentando, unendo le forze, non avendo disparità di trattamenti, ma avendo una uniformità all'interno dell'intero bacino portuale, quindi uniformando le concessioni pubblico, private, mettendo insieme, unendo le forze, sicuramente si potrà fare un ottimo lavoro e dare un servizio in più ai turisti, ai diportisti e anche al settore della pesca.